Allora, direttore, a lei super bonus, io chiedo alla regia se li mettono in onda anche l'altra slide che così fa riassunto un po' di tutto, eccessione del credito menaccennato per lavori ristrutturabili, di ristrutturazione sostanzialmente, però come funziona? Un po' pro e contro questo super bonus, è stato innanzitutto prorogato, giusto? È stato prorogato fino al 2022. Ci sono tutti i decreti attuativi? Sì, c'è tutto, si è in attesa di una proroga ulteriore al 2023, al momento Draghi si è espresso e ha detto lo inseriremo con la prossima legge di bilancio, legge finanziaria che andrà fatta verso fine 2021 e si è sbilanciato che sicuramente sarà prorogato per le case popolari e si è fermato qui e quindi per il 2023 bisogna attendere. È chiaro che se prorogano anche per il 2023 la cosa diventa interessante, mi diventa interessante perché? Perché da alcuni studi che stanno facendo non è che si sia già speso chissà cosa, ma perché? Perché le pratiche sono frenate, le pratiche non stanno andando avanti perché c'è tantissima burocrazia, ma la burocrazia è legata principalmente a verificare che non ci siano abusi all'interno del fabbricato che si vuole, tra virgolette, ristrutturare o comunque fare il super bonus. Quindi la prima cosa da fare è proprio questa, verificare che non siano stati fatti abusi. Quindi bisogna instaurare un rapporto con il comune dove c'è questo fabbricato e iniziare alcune pratiche di verifica e quindi i comuni devono rilasciare tutti i documenti relativi al permesso di costruzione, dell'agibilità, il disegno, come era stato fatto. Ripeto, non sono pratiche che in alcuni comuni paradossalmente quelli un po' più piccoli si stanno attrezzando e magari le risposte sono un po' più veloci, anche se quelli più piccoli hanno meno personale, alcuni comuni di grosse città c'è un po' più di difficoltà anche se lì hanno assunto, stanno tentando di risolvere questo problema. Ecco, le difformità rispetto a quello che è il progetto originale, quindi quello che sta dove? In Catasto? Dove? Certo in Catasto perché è stato depositato in Catasto, cioè in comune è depositato in Catasto. Allora uno va in Catasto, giusto? No, va in comune. Va in comune, sì. Il primo passaggio è il comune. Va in comune per verificare cos'è il suo progetto. Ufficio tecnico edilizia privata. E chiede appunto il progetto originale. Certo, se non ce l'ha, se non ce l'ha. Se ce l'ha, se ha tutto a casa, sicuramente non serve fare questo passaggio. Ma deve vedere solo struttura esterna che non ci sia stata nessuna modifica o anche internamente, pareti spostate, cose? Allora, io non sono un tecnico e noi quello che diciamo a tutti, ma lo fanno tranquillamente. La prima cosa da fare è rivolgersi a un tecnico specializzato, quindi che può essere un geometro, può essere un architetto. No, ma perché uno magari a livello preliminare guarda già di che morte e morire. Allora, di solito tutte le opere interne non hanno bisogno di particolari autorizzazioni, salvo che non vanno a aumentare la metratura della casa. Chiaro, quindi questa è la cosa fondamentale. Questo è pacifico, insomma, però ripeto, qui bisogna sempre rivolgersi a tecnici specializzati. Su questo non c'è ombra di dubbio. Chiedo alla regia che mi rimettono in onda il messaggio che è arrivato, che così lo possiamo leggere insieme e dare anche la risposta a chi ci scrive. Eccolo qua. Allora, un dipendente può portare in detrazione l'acquisto di dispositivi medici igienizzanti, eccetera. Secondo le indicazioni dell'OMS cambio mascherina tutti i giorni e costa 50 centesimi, che in un anno fa 180 euro più gel. Sì, sul gel ho qualche dubbio perché non so se i gel igienizzanti rientrano come dispositivi medici. L'importante è che, come per tutti i farmaci, ok... Mi è acquistato in farmacia, allora l'occupo... Sì, cioè nel senso di solito si acquistano in farmacia piuttosto che le parafarmacie o... In supermercati, insomma. Esatto, quelli che ti rilasciano però lo scontrino parlante, ci deve essere il codice... L'importante è che ci sia indicato che sono dispositivi medici, che ci sia il codice fiscale della persona e basta. Cioè si possono tranquillamente portare in detrazione. Ah ma quindi se uno va a comprarsi le mascherine in farmacia... Quelle della... Sì. ...deve dare il codice fiscale? Sì, come per i farmaci, uguale, stessa cosa. Quindi il supermercato è difficile, è impossibile. Il supermercato è molto difficile, a meno che non ci sia la parafarmacia all'interno del supermercato. Assolutamente, quindi attenzione. Qualcos'altro da aggiungere? Sì, volevo aggiungere questo per quanto riguarda il super bonus, tanto per chiudere un po' anche l'argomento che il CAF nostro esegue il visto di conformità. Quindi anche qui invitiamo noi tutti i cittadini a rivolgersi al nostro CAF. Inizialmente possiamo dare anche alcuni consigli, su questo non c'è un problema di dubbio. Stiamo concludendo anche degli accordi, quindi delle convenzioni con alcuni istituti bancari per l'accessione del credito. Quindi anche qui diventa la cosa molto interessante perché con questi istituti bancari tenteremo di fare una convenzione dove ci sono delle agevolazioni per gli associati CIA e sono due importanti istituti di credito di cui uno abbiamo già l'accordo, l'altro è in via di perfezionamento e siccome che l'accessione del credito anche questa non è una cosa da poco perché si parla che a fronte di un 110 si va a 100, 102 il riconoscimento per chi acquisisce il credito. Ma anche qui la parte preponderante è legata alla burocrazia perché ci sono alcuni passaggi non indifferenti che bisogna fare e che noi possiamo sicuramente come CAF intervenire. Perfetto, allora siamo in chiusura, chiedo alla regia proprio in chiusura di mettere alla prima slide quella che ci dà le indicazioni. Dove telefonare, chiamare allo 049, eccolo qua, 09 90 777 oppure mandare una mail a infochiocciola ciapadova.it per quanto riguarda prenotarsi con il CAF, anche come diceva il direttore una consulenza, una valutazione generale è sempre bene farla e farsi supportare da persone che sono preparate. Credo che sia arrivato un ultimo messaggio e poi siamo appunto in chiusura. Chi ha tassazione 15% può detrarre spese denti? Sì, bisogna sempre verificare la posizione della persona. Quindi portarsi tutti quanti i documenti che sono del pagamento avvenuto eccetera e poi vedere quello che si riesce a detrare. Grazie ai nostri ospiti dell'INAC CIA, del CAF, della CIA di Padova che siete stati qui con noi, a voi da averci seguito e come sempre appuntamento a domani. Grazie. 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 Grazie.